Un gruppo leader nella digitalizzazione dei processi per la pubblica amministrazione per le società, leader nell'intelligenza artificiale e nella creazione di ecosistemi digitali. È la più importante digital company in Italia, protagonista a livello internazionale. Ha chiuso il 2003 con una crescita del fatturato del 18% e punta a crescere ancora. Investimenti, operazioni di M&A e alleanze strategiche. Stiamo parlando di engineering e abbiamo il piacere e l'onore di avere l'amministratore delegato, Maximo Ibarra. Benvenuto e grazie per essere qui con noi. No, grazie a voi per avermi invitato. Lei ha avviato una profonda e importante trasformazione in azienda che ha al centro l'intelligenza artificiale, ma soprattutto la sostenibilità. Potremmo definirlo un efficientamento a 360 gradi. In un momento in cui siamo ad una sorta di crocevia, da un lato l'intelligenza artificiale è un grande abilitatore di sostenibilità, dall'altro invece chiaramente i data center, come saprà meglio di me, consumano tantissima energia. Come si coniugano questi due fattori e come state portando avanti questo percorso di trasformazione? Io direi che è un aspetto estremamente importante perché è assolutamente vero. Allora, a me piace ricordare una cosa molto importante, ed è quella del fatto che la transizione digitale e la transizione energetica vanno di pari passo, quindi una abilita l'altra. È chiaro che nel momento in cui si fanno degli investimenti infrastrutturali importanti, come quelli in cloud, data center, per poter gestire una mole di dati incredibile che in questo momento abbiamo a disposizione, per appunto poi poter sviluppare degli algoritmi di intelligenza artificiale, i consumi in energia potrebbero crescere. Però contestualmente ci sono una serie di azioni che si stanno facendo, che noi stiamo facendo, per riuscire a mitigare e compensare, se non addirittura ad annullare completamente quello che è il consumo energetico legato ad investimenti necessari per poter sviluppare ulteriormente la tecnologia. Esempi sono quello che stiamo facendo nei nostri data center, quello più importante di Ponsa Marten, in Valle d'Aosta, dove sostanzialmente abbiamo ridotto drasticamente il consumo di metano per quanto riguarda il riscaldamento, ma abbiamo anche ridotto in maniera significativa il consumo di energia elettrica per quanto riguarda gli altri utilizzi, quello che viene chiamato Scopo 1 e Scopo 2 dal punto di vista degli obiettivi di sostenibilità. Questo in aggiunta anche ad alcune iniziative che hanno a che fare con il green coding, quindi utilizzare sostanzialmente strumenti di sviluppo software che praticamente siano dal punto di vista del consumo di energia elettrica o comunque di altre fonti fossili sostanzialmente che venga mitigato, venga addirittura annullata. Quindi ci sono molti esempi di azioni che possono essere fatte in questa direzione e che ci stanno dando in effetti dei risultati importanti. Poi è chiaro che gli investimenti in infrastrutture sono in questo momento rilevanti, lo stanno facendo tanti player in giro per il mondo, come dicevo all'inizio, la necessità di investire in cloud e data center con lo sviluppo di questi nuovi modelli LLM di intelligenza artificiale sarà sicuramente più intensiva nei prossimi anni. Però grazie, guarda caso, all'intelligenza artificiale si potranno anche utilizzare queste tecnologie per far sì che il consumo energetico scende in maniera drastica. Anche qui posso citare alcuni esempi. Nel momento in cui si ragiona su energie rinnovabili, grazie alle AI e grazie ad altre tecnologie si riescono a fare previsioni molto più accurate e soprattutto a gestire la domanda del consumo energetico in modo molto più efficiente attraverso le diverse fonti che sono frammentate per definizione di energia rinnovabile. Quindi questo sicuramente è anche un altro aspetto che ci darà grandi soddisfazioni in futuro. A proposito di sostenibilità, prima di guardare al futuro, al vostro piano, al 2026, il punto di partenza è il rapporto che avete presentato nel 2023 e che tra l'altro, grazie ad una nuova metodologia per la prima volta, comprende tutto il perimetro del gruppo. Stiamo parlando di 21 paesi e oltre 80 sedi. Ci racconta qualche risultato importante? Sì, questo è un aspetto a cui noi tenevamo e teniamo tantissimo ed è quello sostanzialmente di considerare il piano di sostenibilità qualcosa che sia sistematicamente legato a quelli che sono i nostri processi di business. Molto spesso le aziende quando fanno un proprio piano di sostenibilità lo considerano come se fosse praticamente un compito separato. In realtà il business e la sostenibilità vanno di pari passo. Quindi sostanzialmente sono dei processi molto integrati. Quindi quello che abbiamo fatto quest'anno è intanto abbiamo incluso tutte le sedi del nostro gruppo in giro per il mondo. Come lei giustamente diceva, sono 80 sedi e sono sostanzialmente 21 paesi e quello che abbiamo fatto è coinvolgere tutte le funzioni aziendali costruendo anche una piattaforma interna nella quale tutti i diversi colleghi delle funzioni interessate sia per quanto riguarda le funzioni di staff ma soprattutto le funzioni di business potevano tranquillamente mettere il loro target aggiungere le iniziative che in questo momento stiamo mettendo in campo in modo tale da poter avere in tempo reale un lavoro integrato. Quindi questo è stato sicuramente un passo in avanti significativo. Però come dicevo prima la cosa importante è che gli obiettivi di sostenibilità sono già integrati nei nostri budget. Quindi quando viene fissato un obiettivo di business questo obiettivo di business è già compatibile e coerente con il nostro piano di sostenibilità perché noi facciamo fondamentalmente due cose da una parte quelle che sono iniziative ISG di sostenibilità che riguardano i nostri processi interni prima raccontavo il tema del nostro data center piuttosto che altre iniziative che facciamo anche in ambito social per quanto riguarda la presenza femminile ma la cosa importante è che noi grazie attraverso i prodotti che noi abbiamo proprietari piuttosto che le nostre iniziative digital transformation attraverso l'utilizzo di tecnologie costruiamo soluzioni che aiutano le aziende e i nostri clienti a poter raggiungere a loro volta importanti obiettivi di business e di sostenibilità. Quindi è un approccio molto proattivo rispetto a quello che poteva sembrare soltanto all'inizio. Veniamo al piano 2026 naturalmente sostenibilità significa competitività ma deve essere basata sulla scienza i vostri obiettivi sono science based avete 16 impegni per 34 obiettivi a quella data che come diceva non guardano solo all'ambiente all'efficientamento energetico ma anche e soprattutto al gender gap al pay gap per esempio quali saranno le azioni prioritarie? Sì, dal punto di vista energetico ovviamente noi sostanzialmente ridurremo totalmente annulleremo quello che è il consumo energetico da fonti fossili quindi sarà tutta energia elettrica che arriva sostanzialmente da fonti rinnovabili questo è l'obiettivo numero uno e lo faremo nel 2030 siamo già a buon punto quindi ogni anno da qui al 2030 ci sarà un significativo passo in avanti abbiamo anche degli obiettivi importanti per quanto riguarda quelli che sono i nostri fornitori quindi noi abbiamo aderito al Global Compact dell'ONU e stiamo aiutando anche una parte significativa dei nostri fornitori affinché nei loro piani di sostenibilità possano raggiungere gli stessi obiettivi che stiamo raggiungendo noi in modo tale che non sia soltanto legato a noi ma appunto la catena del valore che ci circonda per quanto riguarda il tema del gender pay gap questo è molto importante perché in engineering abbiamo un gender pay gap dell'1,7% ed è un dato che annulleremo adesso nei prossimi anni del piano notare che ci sia assolutamente piena parità stiamo lavorando ovviamente affinché la presenza femminile aumenti in modo significativo attualmente abbiamo raggiunto il 32,5% dei nostri colleghi e collaboratori sono ragazze e l'altro aspetto importante è che nelle posizioni di leadership noi vogliamo fondamentalmente portarci ad una percentuale molto più elevata rispetto a quella che abbiamo oggi quindi da circa il 18% a un 25% nei prossimi anni e credo che questa sarà una percentuale che supereremo anche in modo significativo quindi non basta soltanto avere un numero importante di donne e ragazze nella nostra base di colleghi, collaboratori e dipendenti ma appunto avere le ragazze in posizioni di leadership perché questo chiaramente ci farà fare un ulteriore passo in avanti significativo in tutte le cose che facciamo sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista manageriale A proposito di passi in avanti nel 2025 presenterete il nuovo piano strategico che immagino avrà come direttrice di intelligenza artificiale e sostenibilità so che poco ci può anticipare ma come prevede che la società arrivi a quel punto fissando poi nuovi target per il futuro? Direi che ci sono tanti esempi in questo momento che noi abbiamo in campo quelli che chiamiamo casi d'uso fondamentalmente sono dei prodotti delle soluzioni che abbiamo già disponibili provo a fare degli esempi uno dei temi più importanti che riguarda l'intelligenza artificiale è quella di poter fare delle previsioni molto accurate e questo sicuramente è una delle diciamo caratteristiche più richieste faccio degli esempi allora dal punto di vista delle infrastrutture per quanto riguarda le infrastrutture idriche sappiamo perfettamente che queste sono molto fragili quindi la perdita che hanno le nostre infrastrutture idriche in Italia supera abbondantemente il 40% attraverso soluzioni di AI di digital twin e di altre tecnologie che fanno parte del nostro portafoglio non siamo in grado di fare previsioni accurate in modo tale da poter anticipare i problemi sapere dove potrebbero esserci delle perdite oppure dei problemi nei flussi in modo tale da riuscire a fare una diciamo intercettare molto prima e più efficacemente quelli che possono esserci problemi appunto nelle varie infrastrutture quindi ridurre la perdita d'acqua significativamente un altro esempio è quello che riguarda la fragilità del territorio quindi analizzando monitorando i dati grazie anche ai sensori quindi al mondo dell'internet of things e ripeto grazie anche agli algoritmi di AI e grazie appunto al digital twin che sono appunto tecnologie che permettono di simulare si riescono a fare delle analisi che ci permettono anche di anticipare quelli che possono essere fenomeni catastrofali in modo tale da poter prendere tutte le precauzioni molto prima e quindi risparmiare anche delle vite umane così come anche nel mondo dell'energia come dicevo poc'anzi ci sono tante fonti di energia rinnovabile ognuno, ogni singola famiglia una singola abitazione potrebbe essere di fatto una fonte di energia rinnovabile riuscire a mettere insieme tutte queste fonti e poter prevedere quale possa essere l'offerta sulla base di un certo momento storico in cui c'è una certa domanda questo è anche un altro elemento o un altro caso d'uso rilevante per poter fare una previsione accurata in ambito sanitario in ambito salute in campo diagnostico quindi potrei sicuramente magari rubarvi minuti e minuti di questa trasmissione per raccontarvi tanti casi però sono tutti elementi che ci dicono con chiarezza come le AI insieme ad altre tecnologie sapranno darci delle risposte a dei problemi che in questo momento sono temi non solo di business ma sono temi sociali quindi questo farà parte e lo hai già di fatto ma sarà sempre più parte del nostro piano di sostenibilità proattivo di prossimi anni solo all'inizio di una rivoluzione davvero trasformativa e rivoluzionaria e per questo voglio chiudere con un'ultima domanda perché chiaramente occupandoci di mercati finanziari in questo momento a Wall Street non solo si dice il momentum sta nutriendo il momentum in termini di intelligenza artificiale generativa ci sono centinaia e centinaia di miliardi di investimenti da parte delle grandi società delle tecnologie che vanno oltre delle Magnificent Seven e qualcuno critica un po' la possibilità che questa spinta possa correre ulteriormente per la difficoltà di monetizzare questi investimenti ovvero per il fatto che oggi forse il land user non ne faccia un utilizzo così elevato dal vostro osservatorio privilegiato soprattutto sull'Italia voglio chiederle qual è il feedback che ricevete sia in termini di domanda anche di intelligenza artificiale generativa viste le vostre soluzioni proprietarie che è proprio di utilizzo da parte del cliente sì allora qui qui ci sono una serie di indicazioni che che sono varie dipendono appunto da che tipologia di azienda stiamo parlando quindi stiamo parlando delle grandi aziende piuttosto che stiamo parlando delle piccole medie realtà dal punto di vista delle grandi aziende il livello di attenzione in questo momento è massimo tutti i vertici delle più grandi realtà in Italia in questo momento stanno affrontando il tema dell'intelligenza artificiale lo fanno in tre logiche la prima è quella di come poter migliorare l'efficienza o aumentare la produttività quindi si lavora sostanzialmente sull'esistente in modo da poter accelerare il time to market dal punto essere più produttivi riuscire ad automatizzare alcuni processi in questo momento sono complessi e questo è un ambito e qui c'è grande interesse un altro ambito nel quale da qualche tempo ormai le aziende stanno compiendo comunque stanno facendo delle cose interessanti è quello che riguarda appunto il mondo del marketing e quindi il potersi rapportare con i clienti in modo molto più personalizzato e quindi qui parliamo dei chatbot oppure dei customer care che sono personalizzati perché di fatto non è un umano che risponde ma è sostanzialmente un algoritmo una macchina che dà risposte personalizzate sempre più empurate e il terzo aspetto è quello della generazione dei contenuti che possono essere utilizzati non solo per attività di marketing ma anche per attività di product design quindi sono tante applicazioni in questo momento che possono essere utilizzate sì c'è un tema di monetizzazione nel senso che l'attenzione chiaramente o il livello di awareness porta ovviamente dagli investimenti ma quello che stiamo cercando di fare noi e le aziende e i nostri clienti appunto di indirizzare gli sforzi su quelli che sono casi d'uso che hanno già una chiarissima come dire matrice dal punto di vista di performance che sappiamo esattamente come funzionano quello che riescono a dare e qual è fondamentalmente il tipo di beneficio che se ne può ricavare quindi cercare di ridurre l'ampiezza di questi casi d'uso da 100-200 a 5-6 in modo tale da poter dimostrare che in effetti attraverso queste tecnologie si riescono a toccare dei risultati e avere risultati molto concreti in tempi molto ridotti poi è chiaro che le applicazioni sono tante credo che c'è un tema sicuramente di skill c'è un tema di competenze sicuramente non ci sono in questo momento sul mercato un numero sufficiente di persone che abbiano la capacità sia per quanto riguarda insomma le grandi aziende che le piccole aziende per riuscire a portare a termine tutti i progetti che le hai sicuramente abiliteranno ai prossimi tempi quindi come al solito quando nasce una nuova tecnologia o quando un insieme di tecnologie cominciano a prendere il sopravvento c'è sempre una primissima fase nella quale c'è grande attenzione c'è sicuramente una prima parte di investimenti all'inizio magari si procede con un approccio nel quale si scegliono alcune iniziative poi si vede esattamente quello che succede ma come l'esperienza dimostra nel giro di 2-3 anni questi diventeranno mainstream all'interno di quelli che sono i processi aziendali quindi sicuramente il beneficio sarà molto più grande rispetto a quello che si può intuire in questo momento Maxime Barra CEO di Ingeniering grazie mille per essere stato con noi grazie mille e grazie a voi per aver seguito Sustainable Future arrivederci